Ritroviamo Padre Ernesto della Corte nella seconda domenica di Pasqua, detta anche Festa della Divina Misericordia. Buona Pasqua della settimana Padre Ernesto. Buona Pasqua della settimana anche voi, giorno della misericordia, certo hai ragione, ricordiamo questa festività che ha voluto il grande santo San Giovanni Paolo II, che amava tanto anche il nostro Padre Pio, direi che davvero in questa Pasqua ulteriore, perché siamo sempre, abbiamo cantato la Pasqua da domenica scorsa a oggi, oggi è l'ottava, tutti i giorni di questa settimana sono Pasqua, sono stati Pasqua, tante volte i nostri cristiani queste cose non le sanno, anche lunedì, martedì, lunedì non è stato solo i lunedì dell'angelo, della festa, delle uscite, è stata Pasqua, martedì è stata Pasqua, mercoledì è stata Pasqua, che meraviglia, è la settimana l'ottava di Pasqua, che chiude con questa domenica di ottavo in cui c'è la misericordia che ci rigenera. Dobbiamo ricordare l'episodio di Santo Maso, il quale nel giorno di Pasqua, domenica scorsa, secondo il quarto Vangelo, non è presente con gli altri. Quando otto giorni dopo il risorto si rivela, egli giunge a credere e arriva la confessione di fede, che è quella più alta, quella del quarto Vangelo. Quando ero bambino, la mia maestra di catechismo, che era una suora laica, mi insegnava proprio questa preghiera. Dopo aver fatto la comunione diceva, recita la preghiera di San Tommaso, mio Signore, mio Dio, tu sei il Dio e il Signore della mia vita. Tommaso non deve essere considerato un discepolo indegno, un miscredente come tanti altri, come spesso c'è un pensiero comune e non documentato. Piuttosto è il discepolo che rappresenta e sintetizza in sé un cammino impegnativo. Ogni discepolo, in ogni tempo, in ogni luogo, deve fare questo cammino. Perché Tommaso ci ricorda con la sua esperienza che si fa fatica a credere alla resurrezione. La resurrezione è il centro, la resurrezione della carne è il centro della nostra fede, come la vita eterna. Ma non è facile poter credere. Tommaso ci rappresenta. In Tommaso siamo un po' tutti quanti noi. Perché qual è il vertice della fede pasquale? È proprio quello di oggi. La fede pasquale è il vertice del credere e diventa il fondamento di tutta la vita dei cristiani. Dobbiamo credere alla vittoria di Cristo sulla morte, ha vinto sulla fragilità, sui dubbi che spesso ci paralizzano. E questa fede ci viene comunicata da chi ha fatto esperienza. Ecco, Tommaso doveva dare fiducia ai suoi fratelli. Ecco perché il Vangelo di oggi vuole indicare a noi un itinerario per arrivare a credere. Qui, ora, dobbiamo credere a colui che viene e resta in mezzo. Viene e stette nel mezzo, attraversa le porte chiuse a un corpo risorto. Quel corpo risorto ci sarà dato in dono anche a noi alla fine dei tempi. Lui ci offre la sua pace, ci dona ancora una volta lo Spirito Santo. E questo avviene proprio quando siamo riuniti nell'assemblea liturgica. La messa non è un'abitudine, una cerimonia, un rito vuoto. È esattamente l'esperienza che ha fatto Tommaso otto giorni dopo. È la Pasqua della settimana della comunità cristiana che continua. Ecco perché nei giorni successivi alla morte in croce di Gesù i discepoli stanno a porte chiuse per timore dei giudei. C'è uno stato di chiusura e tuttavia è possibile scorgere in loro un'attesa. Non so se ricordi, Anna Maria, l'abbiamo detto proprio nel giorno di Pasqua, no? C'è un'attesa che continua, che è suscitata dall'annunzio di Maria Maddalena, la quale, quando sono andati via Giovanni e Pietro dal sepolcro, è rimasta lì e ha fatto esperienza del risorto. E quando torna, li sconvolge. E Oraca, Tonchiurion, ho visto il Signore. Li sconvolge. È il risorto che ancora una volta dà un segno. Appare una donna. È il risorto che viene incontro ancora una volta e appare nel cenacolo e offre i loro cuori che sono impauriti e chiusi, anche se in attesa. Offre il dono pasquale, la shalom, la pace. E poi Gesù mostra i segni indelebili che porta nel proprio corpo. Lui è il crocifisso risorto. Lui è passato attraverso la morte. La resurrezione non è una rianimazione, non è un tornare indietro. È un andare avanti. Gesù ha vinto la morte, l'ha attraversata. Egli è il vivente, il primo e l'ultimo, colui che era morto, ma ora vive presente in mezzo alla comunità. È quel Cristo che fa un gesto di creazione nel cenacolo, quando alita su di loro. Ricorda il celebre capitolo 2 del Libro della Genesi al versetto 7, quando Dio, dopo aver fatto con la creta questo essere, alita, come alita il Vescovo nel giorno del Giovedì Santo sugli oli per consacrarle. Perché la resurrezione è una nuova creazione. È il dono dello Spirito Santo. D'ora in poi la comunità di discepoli ha un annuncio da dare, ha una missione. Quale? Annunciare la misericordia di Dio. Ecco perché Giovanni Paolo volle che questa pagina, che questa domenica ottava di Pasqua diventasse il giorno in cui dobbiamo ricordarci di questa missione. Annunciare la misericordia di Dio. La chiesa ha un mandato, rimettere i peccati, perdonare, riconciliare gli uomini. E a tutto questo non assiste Tommaso. Ecco perché deve fargli fare l'esperienza il giorno, otto giorni dopo. E appena arriva lo chiama subito a sé. Perché ha rifiutato di credere alla testimonianza dei fratelli. Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non getto la mia mano nel suo costato, un me pistevo, non crederò affatto, ha detto Tommaso. Ecco forse l'errore di Tommaso che è anche il nostro. Tommaso non si fida dell'annuncio che danno i fratelli. Vuole avere un rapporto immediato e diretto col Signore. In realtà la fede passa attraverso una comunità, passa attraverso la Chiesa. Il vero nome di questo atteggiamento può sembrare incredulità, però dobbiamo dire che Tommaso non soccombe a questa incredulità, non lo tocca realmente, anzi alzerà quelle mani, credo non ha messo il dito davvero nelle piaghe. Caravaggio ce lo fa vedere in quella posizione. In realtà quando Gesù lo impita a contemplare i segni della morte, metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano, gettala nel mio costato e smettila di essere incredulo. Piuttosto Allah diventa credente e lui giunge a comprendere. Davanti a quel risorto si incidocchia, lo adora e allora esce fuori la professione di fede che dovremmo avere sempre in bocca, mio Signore e mio Dio. Non ha messo né il dito nella piaga, né la mano al posto dei chiodi, nemmeno l'ha gettata nel costato. No, no, Tommaso ha avuto la rivelazione della misericordia di Dio. Ecco perché Gesù dice tu hai visto e hai creduto, ma da oggi in poi, beati quelli che pur non avendo visto, mei dontes, hanno già creduto o credono. È la fede a farci aprire gli occhi, è la Pasqua che, come dice Luca nel suo Vangelo, scioglie il buio dei nostri occhi e ci fa conoscere, i pighi nosco. Quindi la Pasqua è un evento da conoscere, non da vedere, perché abbiamo bisogno del Vangelo. Ecco perché ogni domenica la Chiesa vuole risvegliare in noi questo cammino e ci ricorda per un verso che è faticoso, che è quotidiano, ma ci ricorda anche che continua questa nostra ricerca, cercare ed esplorare. Coelet diceva che è un tormento per l'uomo, ma nel senso più poetico. Guai a quell'uomo che ogni giorno non cerca ed esplora, guai a colui che non ricomincia sempre da quella certezza. Il Signore è risorto e noi dobbiamo con tanta umiltà oggi dire mio Signore, mio Dio, continua ad accompagnarmi nel cammino della storia perché io possa giungere, a portare a compimento questo itinerario di umanizzazione. Sì, lui è l'uomo nuovo e l'unico vero uomo di circoncilio nel quale ognuno di noi può essere umanizzato. Buona misericordia a tutti quanti voi. È una bella realtà della fede cristiana per la nostra vita, la misericordia di Dio per noi. Buona misericordia Padre Ernesto. E buona Pasqua della settimana. Shalom. Shalom.